Questo IAB Forum è un po' la rappresentazione del mondo internet acquisito, stabilizzato, è un po' il Facebook del 2.0, nel senso che non c'è le punte di diamante, non c'è altre situazioni di frontiera che abbiamo visto nel Social Week o nella Festival dell'Innovazione nel settembre-ottobre di quest'anno. Quindi lo IAB si propone come trasversale, non particolarmente innovativo ma certamente un punto di contatto con le aziende che hanno bisogno di capire cosa sta succedendo e quindi svolge un importante ruolo che è quello proprio di essere centrale e quindi non punta di frontiera ma riuscire a parlare a tanta gente attraversalmente. Io penso che il pubblico B2B, come è in questo caso, abbia la possibilità attraverso questa struttura assolutamente tradizionale, poco innovativa, quindi stand, situazioni di incontro acquisite nel tempo, di poter esprimere le loro perplessità, le loro paure e quindi venire convinti che il mondo digitale con le cifre che ha, le ultimissime sono che ci sono 16 milioni e 400 mila iscritti in Facebook in Italia ed è il range più forte nel mondo nei confronti dei 25 milioni di internauti che fosse il momento di incontrare questi utenti, per esempio, e trovare il modo giusto per farlo.